Siamo le famiglie nello spazio popolare Neruda, le scuole occupate in corso CEDE che hanno preso vita da qualche mese dove queste famiglie che vedete, dove i migranti italiani vivono in felicità come una vera comunità. Oggi come famiglie nello spazio popolare Neruda, insieme a strattati, a persone qualunque, abbiamo deciso di venire qui per farci vedere, per dimostrare che Torino non è solo una città vetrina, non è solo una città delle poste olimpiadi, non è una città solo dei grattacieli, ma è una città dove ci sono persone che non sono anche un diritto alla casa. Le persone che sono qui hanno deciso di fare questa iniziativa. Grazie a tutti.